Buonasera a tutti amici di Olimpo TV, siamo in Coppa di Cociacomuzzi dopo un'altra bella partita è stata la seconda giornata di Supercoppa Alba ha vinto nettamente con Alessandria in una partita che in realtà ha vissuto di momenti diversi però è stato positivo il come ha raggiunto la squadra nei momenti di difficoltà e tutti hanno portato il loro mattoncino, anche tanti problemi di falli però questo risultato tondo dimostra che la squadra ha lavorato bene anche oggi credo direi proprio di sì, abbiamo giocato nuovamente in 10 e sono contento di questo proprio come dicevi tu, ognuno dà un qualcosa a livello difensivo piuttosto che offensivamente dà spazio di respirare per i titolari, ci dà la possibilità di giocare quindi 40 minuti sempre allo stesso livello e questo ci consente di tenere il ritmo molto alto sia offensivamente ma anche difensivamente questo lo dimostra il punteggio ancora oggi, è di nuovo fatto 94 punti dopo gli 87 mi pare di Omenia, quindi la squadra in attacco ha già un buon amalgamo un buon ritmo ma difensivamente tiene, difende forte, difende in maniera aggressiva con 10 giocatori che è quello che vogliamo e quindi sono molto contento ancora di decidere tutto per caso della partita allora questa è una squadra che ci piace e soprattutto che si è regalata anche la possibilità domenica prossima alle 18 contro Leggio di giocarsi anche il passaggio del turno e vediamo allora cosa riusciranno a fare i tuoi ragazzi domenica grazie mille al coach grazie a voi grazie a voi